subito pronti dicevamo appena ti hai dato il traguardo complimenti come è andata ovviamente al di là della vittoria tipo di percorso giornata temperatura vogliamo un po un dettaglio giornata bellissima piena di sole piena di gioia percorso meraviglioso corso magnifica perché sono riuscito a vincere dopo tanto tempo abbiamo fatto primo secondo e terzo che adesso terzo è arrivato Alessandro Motta sempre il mio compagno di squadra quindi secondo invece? secondo Lorenzini quindi complimenti a tutto il Gianluca team Faenza grazie molto gentili